Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovissimo video del canale di Pannocchia Company Oggi, nell'attesa dell'uscita di BT7, dato che ci avete chiesto di portare video magari su altro TGG Come non iniziare in bellezza magari a inaugurare un video su Yu-Gi-Oh! Con l'uscita, anche se non è proprio novità dato che è uscita già da qualche settimana Il nuovo starter Attacco Link Lo abbiamo comprato appunto per voi, per farvelo vedere in esclusiva, esclusiva mica tanto dato che altri canali l'hanno già portato Però abbiamo detto perché no, non mostrare anche noi il contenuto di questo fantastico starter Quindi iniziamo subito l'unboxing, apriamo in qualche modo questi starter che vanno praticamente distrutti E troviamo all'interno il nuovo campo da gioco aggiornato con le nuove regole dei Link e dei Pendulum modificati Come vedete queste nuove due zone extra, le zone mostri rimangono normali e i pendoli vanno a sostituire praticamente Una zona di magia e trappola Il deck e l'extra deck rimangono allo stesso modo Cambia semplicemente queste due zone in più Poi troviamo la classica guida introduttiva che c'è in tutti gli starter Però in questo starter è molto più importante perché appunto spiega l'utilità dei nuovi mostri Link Che sono ovviamente la novità di questo 2017 di Yugi Ma, bando alle ciance Vediamo appunto il contenuto di questo mazzo Che ovviamente non vuole uscire Quindi dovremmo spaccare la scatola Ed eccolo qui Che si presenta con Link Assassino come carta ultra rara Nella... Prima... Primo impatto ancora prima di aprire questo starter Per cui andiamo nel... A cercare l'apertura Ok Come dice la scatola Lo starter contiene esattamente 38 carte comuni Due ultra rare E tre super rare Quindi appunto vediamo Le prime due carte ultra rare La prima è Link Assassino Che come effetto dice Che se non controlliamo nessun mostro Possiamo evocare specialmente questa carta dalla mano Una volta per turno puoi scartare fino a due carte Scegliere come bersaglio quel numero di magie e trappole sul terreno E distruggerle È una carta molto interessante E notiamo subito La prima novità di questo starter Che è il tipo Siberso Perché all'epoca c'erano macchine Senza definizione In questo nuovo tipo Cyber Diciamo Quindi è un nuovo tipo per Queste nuove carte di Yugi Abbiamo qua le buste Per mettere subito dentro le nostre carte E quindi mettiamo qua le nostre ultra rare Altra novità del mazzo Troviamo subito il nostro primo Link Decodificatore trasmittente Ultra Anche lui tipo Siberso Link effetto Che per evocarlo avremo bisogno di due mostri con effetto E guadagna 500 d'attacco per ogni mostro a cui punta Quindi le novità sono le freccettine che vediamo qua In base a dove punta o anche sopra Avrà appunto più 500 d'attacco Quindi potrà diventare virtualmente un 3800 Non da sottovalutare E quando il tuo avversario attiva una carta O un effetto che sceglie come avversario Una o più carte che controlli Effetto rapido pure quindi Puoi offrire come tributo un mostro Puntato da questa carta E annullo l'attivazione Se lo fai distruggi quella carta Quindi annulla e distruggi anche una carta Poi abbiamo Ram Clouder Che è la pecora Che come dice Scala nel suo video Gli piace un sacco 1800-1000 Anche lui tipo si berso 4 stelle Ah tra l'altro notiamo la nuova foilatura Delle super E anche delle ultra Che brilla anche alle stelline Cosa che prima non succedeva Possiamo offrire come tributo un mostro Scegliere come bersaglio un mostro si berso dal cimitero E evocarlo specialmente Quando utilizzi questo effetto di Ram Clouder Una volta sola per turno Quindi possiamo recuperare le carte Che abbiamo perso Sempre di tipo si berso E quindi mettiamo qua le super E le due ultra in cima Seconda super del mazzo Abbiamo Mielebot Un altro link nuovo Che tra l'altro questo link punta solo a destra e sinistra Sempre tipo si berso Che con effetti dice Due mostri si berso Nessun giocatore può scegliere come bersaglio mostri puntati da questa carta Con gli effetti delle carte E quei mostri non possono essere distrutti in battaglia Non è neanche male questa carta E ricordiamo che ovviamente Se evocare un link che ci sblocca una parte inferiore E noi potremmo evocare altri link E ci sbloccano altre zone dell'extra deck Quindi vediamo l'ultima carta di questo Di queste rarità appunto di super E troviamo Ragnolink Si berso anche lui Link effetto E cosa fa questo? Si può evocare con un solo mostro normale E un Miele d'attacco E una volta per turno possiamo evocare specialmente Un mostro normale di livello 4 inferiore dalla mano Nella zona puntata da questa carta Quindi ci sblocca una zona di extra deck E potremmo calare un mostro di tipo normale Quindi senza effetto E praticamente evocarlo gratuitamente Fare un'evocazione extra Poi troviamo appunto il nostro primo giallone Bitron Anche lui è un Siberso Due stelle Ed è un 2000 di difesa Una nuova specie che si trova nello spazio elettronico Non ci sono molte informazioni su di essa Per citare anche Simpian Laki Che legge gli effetti delle carte normali Poi troviamo Draco Rete Con effetto Quando questa carta viene evocata normalmente Possiamo evocare specialmente un mostro normale di livello 2 inferiore Dalla mano al deck in posizione di difesa Poi abbiamo Serpente Galattico Un Drago Tuner tra l'altro Ed è un 1000 di difesa Scusate un 1000 di attacco Poi Drago Carapace Misterioso E è un tipo normale Un 2000 di attacco Io mi ricordavo quando giocavo ai tempi Che un 2000 di attacco era immenso E adesso calano così 4 stelle 2000 gratis Ok Re Bestia Barbarosa Veramente Barbaros Non è Barbarosa Scusate E appunto è un Guerrero Bestia 3000 8 stelle Poi abbiamo il nostro immancabile Cyber Drago Sempre forte in qualsiasi mazzo Tipo macchina Distruttore Fotonico 2100 4 stelle Avrà sicuramente un effetto negativo Uh l'immancabile Universo Exarion Carta molto old school Questa La gioca in Goat Molto carina e forte Danno perforante Mandragora Branco Malvagio Forte Capitano Saccheggiatore Immancabile Serve per tuttora I pezzi Sanghan Con il testo aggiornato Perché come sapete l'hanno cambiato Curi Bandito Marshmallow Card Auto D Ricco Cacciatore Fedele della Luce Carta anche questa vecchia Ancora dei Tempi dell'Onesto Dissolvitore da Battaglia Anche questa è carta forte che annulla Un attacco alla battaglia Non mi ricordo bene Spaventa Passeri Veloce E Dissimulatore di Effetto E qua finiamo i mostri del nostro mazzo E qui iniziamo con le nuove carte magia Appunto abbiamo Cyber Universo Scusa Cynet Universo Che è una nuova carta che serve appunto Con i nostri nuovi mostri Siberso e Link Sì infatti dice Tutti i mostri Link controlliamo Guadagnano 300 l'attacco Una volta aperto uno puoi scegliere come bersaglio Un mostro nel cimitero Mischiano nel Dex Questa carta sotterrina viene distrutta Dall'effetto di una carta Tutti i mostri nelle zone mostro extra Vengono messi al cimitero Poi mostro reincarnato Che è un mostro risuscitato ormai bandito Buco nero Tifone Libro della Luna Lancia proibita Uniti restiamo Gianna della dualità Fardello del potente Che era una carta che se non sbaglio si trovava nel Game Boy Questa in qualche gioco Poi appunto abbiamo Squadra di rifornimento E un bel terraformare Poi per passare alle trappole abbiamo Anfara dell'Avarizia Un Call of the Haunting Haunted Forza riflessa TT Un bel Ring of Destruction Bucco trappola senza fine Un bel dispositivo di salvataggio obbligatorio Catena demoniaca E corruzione oscura Quindi Questo è quello che faceva parte Dello starter Appunto del nuovo starter Attacco Link Probabilmente Ci saranno anche altri video su Yugi Magari anche A riguardo con qualche partita carina Ripeto Non siamo giocatori Professionisti Però Ho qualche Amico che potrebbe intervenire nel canale Come ho già citato l'altra volta Silent Honor E potrebbe dire anche qualcosa sul meta E mostrare anche delle carte molto costose Diciamo Quindi Il video Si conclude qui Se vi è piaciuto Potete mettere un like E condividerlo Se vi piace questo Nuovo mondo di Yugi Perché siamo passati a un'evoluzione Proprio del gioco Scrivetelo nei commenti E cosa ne pensate di queste nuove carte Link E Dalla Pannocchia è tutto Dall'ombus Ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi Scriviti al canale Scriviti al canale